allora se la venata era improvvisata questo video strepidoso cioè che ancora più improvvisato iniziamo in anche ben fuori generale della raviolina la sento urlare ordine e disciplina ma lo sa che dove l'è seduto nessuno chiede aiuto e non c'è una sola mina i generali si lustrano le medaglie facciano sangue freddo come rettili e sono io che striscio far l'ester palli e dietro la collina sapessi fa così freddo che congeleresti e c'è una musica di colpi di fucile di urla di ragazzi di giorni andati persi e contadina questo ballo tu non lo concederesti a me ho l'uniforme diverso a tuoi fratelli partiti già da un anno ma che non torneranno diverso l'ambizione uguale fardelli quelli che ti dicono che toglie ma che ne sanno ma che ne sanno loro generale dietro la collina ci sta la notte crocca e assassina ed in mezzo al prato c'è una contadina curva sul tramonto sembra una bambina di 50 anni e di cinque figli partiti al mondo come conigli venuti al mondo come soldati e non ancora a tornare generale quel tempo che è passato ma se ci penso ancora piango ho in bocca ancora il sapore di bruciato è un filo spinato che mentre in bocca mi lacera l'aria è tossica come quando aspettavo una bomba e cadeva la prossima e la prossima e la prossima e la prossima generale la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto dietro la collina. Gracchiava una radiolina in un giorno d'aprile, ma io avevo già gettato il fucile. Brrrrla a tutti ragazzi.